Stanno per concludersi nei tempi per visti i lavori di manutenzione delle prime tre strade del centro urbano di Nicosia sottoposte a lavori di bitumazione. Difficoltà solo per la via Sant'Anna che deve essere ancora bitumata. In questi lavori sono state separate le condotte fognari delle acque bianche e tolto un dosso abbastanza pericoloso. La via San Benedetto invece è parzialmente bitumata, coperte le buche e ripienati diversi dossi. Anche in questo caso è stato rifatto l'impianto di incalanamento delle acque bianche e della rete fognaria. Entro 24 ore dovrebbe completarsi anche la bitumazione della via Randazzo. Al massimo entro il 18 febbraio le strade dovrebbero essere riaperte al traffico urbano, in questi giorni in tilt, specialmente nelle ore di punta. Si tratta infatti di arterie vitali per il traffico cittadino, ma occorre precisare che forse per la prima volta dopo tanti anni si è avviato un processo di manutenzione della rete viaria urbana che porterà benefici futuri agli automobilisti. Occorre solo un po' di pazienza e buonsenso. Grazie. Grazie. Grazie.